Sono la professoressa Teresa Delante, vengo dall'Università degli Studi di Perugia, mi occupo di immunologia, delle infezioni opportunistiche. Sono qui oggi in vista della realizzazione di progetti futuri con l'Istituto Maggi e il professor Matteo Bertelli. I nostri progetti si occuperanno principalmente degli studi terapeutici di complicazioni e quindi di infezioni opportunistiche in patologie rare. La nostra idea è quella di sfruttare la conoscenza del microbioma, del tratto gastrointestinale e del cavo orale per cercare di comprendere come poter rimediare a infezioni derivanti da complicazioni immunologiche a seguito di malattie rare. Noi pensiamo di collaborare in via per la realizzazione di terapie alternative che utilizzeranno proprio la conoscenza del microbioma e quindi di tutti i prodotti del microbioma, i cosiddetti postbiotici, che permettono proprio di ricostituire le mucose a seguito di patologie rare e comunque di effetti collaterali di queste malattie. La nostra idea è di realizzare, quindi di rafforzare la nostra collaborazione proprio sulla base di competenze scientifiche differenti. Il professor Matteo Bertelli è ovviamente un esperto su malattie genetiche e quindi su patologie rare. Io invece sono un esperto di immunologia e quindi di infezioni opportunistiche di microbioma e quindi pensiamo che dalla nostra collaborazione possa nascere una forte idea per quanto riguarda delle terapie innovative e personalizzate nel prossimo futuro.